Si ferma solo ai calci di rigore il cammino del Bari in Coppa Italia. Nel secondo turno a Ferrara contro una Spal di categoria superiore la squadra di Auteri tiene bene il campo per 124 minuti ed è condannata solo dagli errori di Minelli e Candellone dai 11 metri. Spal che parte decisa, Paloschi serve Sernicola a destra, conclusione sul primo pallo, respinta di Marfella in angolo, al 28esimo clamorosa chance per la Spal. Paloschi lavora palla al limite, trova a destra Sernicola che con il destro mette la porta nel mirino e calcia a incrociare ma senza trovare i pali. Break del Bari al 32esimo, azione sviluppata a destra dove Andreoni servito da Corsinelli crossa e trova la testa di Dursi, l'impatto però è debole. Replica spallina con Paloschi, cross da sinistra di Sala, controllo spalle alla porta e destro, Marfella è attento e blocca, risposta del Bari con Candellone che un attimo dopo non trova la giusta girata in area. L'ultima occasione di frazione della Spal, Sebastiano Esposito va in fuga a destra, mette a sedere per rotta e assiste Murgia a rimorchio, rigore in movimento, spedito sul fondo, si va a riposo sullo 0-0, si riparte nella Spal con Tomovic al posto di Salamon, la prima occasione però è del Bari, Dursi disegna da sinistra una traiettoria morbida per Candellone che di testa dal dischetto non trova il lob vincente. La reazione della Spal è con Murgia che approfitta di un rimpallo e carica il destro dai 25 metri, Marfella blocca un minuto e calcia dal limite anche Castro, Marfella è attento sul destro a giro, all'ora di gioco gli allenatori cambiano, dentro floccare Jankovic nella Spal, Marras per il Bari, la fatica si fa sentire, prova allora a scuotere l'inerzia della gara Salvatore Esposito che con il destro carica dal limite dell'area e sfiora il palo alla destra di Marfella. Il brivido scalda il Bari, reazione sull'asse bianco Antenucci-Celiento, controllo di quest'ultimo e destro da ottima posizione, il tiro finisce clamorosamente sul fondo, si va così ai supplementari sullo 0-0, si riparte nella Spal con Lickman per Spaltro, si scalda però in questo parziale Sebastiano Esposito che fa capire perché l'inter punta su di lui, va via tra Ciofani e Perrotta, apre il sinistro a giro e Marfella è prodigioso sulla respinta. Entra in partita anche Antenucci, slalom gigante ai 30 metri, destro dal limite dell'area deviato e brividi per Tiam, Antenucci si prende gli applausi del Mazza calciando a giro dai 25 metri, Tiam non si fa sorprendere e l'ultima emozione prima della lotteria dei rigori, segnano in sequenza Salvatore Esposito, Antenucci, Jankovic e Marras, poi floccari calcia fuori strappandosi nell'occasione, Candellone si fa parare l'occasione del sorpasso, Sebastiano Esposito segna, Minelli si fa ipnotizzare da Tiam. Il rigore decisivo è di Tomovic con brivido, la palla però supera la linea, la Spal guadagna il passaggio al terzo turno contro il Crotone, per il Bari invece l'occasione per il riscatto sarà domenica in campionato, al San Nicola arriva il Teramo.